Ciao, sono Zana di Turbulub.it. Oggi ho il piacere di ospitare qui sul canale Simone Darè, che è uno sviluppatore blockchain e un esperto conosciutissimo in tutti i circoli e i gruppi Telegram italiani. Insieme a Simone abbiamo parlato della sua recente intervista allo sviluppatore di Navcoin e dell'importanza di Bitcoin e decentralizzazione nel mondo cripto. Se l'argomento ti interessa, seguici! Simo, prima di cominciare ci vuoi dire... intanto grazie per la tua disponibilità. Ci vuoi dire due cose per i pochi che probabilmente non ti conoscono nel mondo cripto? Va bene, dai una piccola introduzione. Io sono Simone Darè, ho 20 anni, sono uno sviluppatore e mi occupo circa da più di un anno del mondo blockchain e Bitcoin. Nel 2017 ho fondato insieme a Riccardo Masutti Coiners.it e lì ho aperto una delle prime, probabilmente la prima guida sullo sviluppo Ethereum in italiano. Adesso abbiamo intrapreso una nuova avventura, bitcultura.it, con un nuovo team che potrei proprio ringraziare uno a uno e vorrei ringraziare appunto Costantino, Valerio, Cristiano, Francesca, Luca, Andrea, tutti quelli che sono dentro mi stanno aiutando. Sì, è il team perfetto per realizzare un progetto del genere. E appunto ci potete trovare su Telegram. Abbiamo aperto il nuovo sito bitcultura.it e adesso appunto parleremo di un'iniziativa che abbiamo ottenuto all'interno del nostro gruppo Telegram. Bene, bene. Mi sono iscritto anch'io al vostro Bitcultura. Ci sono talmente tanti messaggi che insomma leggo un po' quando riesco gli ultimi due o tre. Sempre un problema. Telegram, non lo so, faccio molto fatica a seguirlo in generale. Tanti messaggi in continuazione molto slegati. Faccio un po' fatica. Bitcultura è il sito o quando lo aprite? È stato aperto ieri sera. Abbiamo già tre articoli. Uno sulla privacy, uno sulla nascita di Bitcoin e del denaro in generale e uno sulla democrazia di Bitcoin più l'intervista che abbiamo fatto appunto ad Alex di Enoughcoin scritta che abbiamo fatto su Telegram. Ok, ottimo, ottimo. Quindi vi invito proprio a visitare bitcultura.it Ava grande, visiteremo tutti. Bene, parlami un po' di questo Alex V. Io ho visto la vostra intervista, leggevo che Alex ha conosciuto Bitcultura quando Visa ha chiuso fondamentalmente i cordoni. Sì, conosciuto Bitcoin quando hanno chiuso i cordoni a Wikileaks che era appunto uno dei problemi anch'io che dicevo l'altro giorno nella mia guida Bitcoin come funziona è tutto il problema dei sistemi centralizzati. Di fatto a Visa gira male, arrivano pressioni da vari governi e si permettono fondamentalmente di chiudere i finanziamenti a un sito. Ci racconti un pochino che cosa era successo in particolare, che cosa ti ha detto Alex, che cosa l'aveva colpito e perché secondo te questa cosa è stata importante? A me ha colpito molto la risposta di Alex, quindi il fatto che lui abbia scoperto Bitcoin grazie appunto al caso di Wikileaks perché credo che il caso di Wikileaks sia stato secondo me quello che ha portato più persone dal mondo normale, quindi persone normali nel mondo di Bitcoin. Questo perché probabilmente è stata, no, l'unica, ce ne saranno sicuramente state altre, però è l'occasione più famosa in cui Bitcoin secondo me ha applicato quello per cui è nato, cioè ha applicato le sue funzionalità di anticensura e la sua caratteristica di essere completamente libero che è diverso da democratico, come spieghiamo nel nostro articolo e Bitcoin è completamente libero e ci dà la libertà di fare quello che vogliamo. Quindi mi ha molto colpito perché secondo me è l'evento più importante nella storia di Bitcoin perché ha funzionato per davvero. Quindi mi ha colpito molto la sua risposta e sarebbe bello secondo me vedere quante persone sono state portate dentro il mondo Bitcoin dopo questo evento. Secondo me sarebbe un numero davvero alto. Sicuramente, anche un bel cambio di prospettiva perché, diciamo, la grande parte delle persone ovviamente sono dentro, nonostante parlano di tecnologie e tutto quanto, per un profitto sul breve termine che è un po' la cosa che più mi, diciamo, ovviamente attira la massa, però è un po' sminuente per tutta la filosofia di Bitcoin, la possibilità di essere resistente alla censura, oltre al fatto della mancanza di inflazione, nonostante comunque ci siano anche ora molti Bitcoin da minare, però una volta raggiunto i 21 milioni, quello sarà, e di fatto non ci sarà più inflazione. Quindi è una bella prospettiva. Sì, aggiungo anche che questo ha premiato, se vogliamo, il team di Wikileaks, Assange, quelli che hanno deciso appunto di accettare Bitcoin, in quanto gli early adopter hanno appunto, hanno cavalcato l'onda dell'aumento del prezzo. Loro scegliendo Bitcoin sono stati premiati e hanno fatto l'unica scelta, secondo me, che in quel periodo potevano fare, perché qualsiasi sistema sarebbe stato chiuso in pochi giorni, in poche ore. Assolutamente, anche Paypal, hanno Stripe, che all'epoca probabilmente manco c'era. Comunque il problema è un po' diffuso su tutti i meccanismi centralizzati, anche perché magari loro hanno tutto l'interesse nel mantenere aperti dei canali, dal quale comunque tramite le commissioni mi guadagnano molto, ma se comunque vengono fatte pressioni dai governi centrali, di fatto c'è poco, c'è poco di cui cercare di stare in piedi dal punto di vista commerciale. Bene, Alex V, di fatto, è lo sviluppatore di Navcoin. Sì, è il nostro lead developer. Sì, è il lead developer di Bitcoin. Io ho fatto un pochino in giro, ho guardato anche su GitHub, ho visto che c'è un bel numero di commit, di push sul repository di Navcoin. Navcoin è uno dei progetti, tra l'altro, che avevo seguito nel video del 2017, uno di quelli che mi era piaciuto parecchio, nonostante sia un fork di Bitcoin, e mi era piaciuto il discorso del proof of stake, del block time molto più rapido. Mi sembrava un Bitcoin più adatto ai pagamenti veloci, per tante cose che ha implementato tanti miglioramenti rispetto alla base di Bitcoin. Più che miglioramenti, parlerei di cose fatte diversamente, che magari per alcuni motivi sono aspetti positivi, per altri invece sono aspetti un pochino meno negativi, oltre al fatto appunto che avevano attivato le funzionalità di privacy che poi ho visto sono state rimosse. Con Alex avete parlato un po' di Bitcoin, ovviamente, in quanto prima criptovaluta, quella che trascina un po' tutto il mercato. Che cosa ti ha detto? Che cosa ne pensa? Qual è la sua prospettiva da sviluppatore di un altcoin? Ok. A me è piaciuto molto il punto di vista di Alex, in quanto sviluppatore altcoin, si tende, tutti quelli che vedi, di solito sono persone che spesso in manla fede, appunto perché loro sviluppano su un altcoin, arrivano a dirti che la loro altcoin è migliore di Bitcoin. Con Alex non è stato assolutamente così, anzi ha detto che, chiaramente, che Bitcoin è il numero uno e credo che su questo dovremmo essere tutti d'accordo. Purtroppo non è così. E mi è piaciuto il suo punto di vista riguardo le altcoin, il fatto che siano degli esperimenti. Secondo me non c'è niente di male nel definire un altcoin un esperimento. Su Bitcoin, come diceva Alex, non possiamo più sperimentare perché è un mercato talmente grande che sarebbe come, non so, sperimentare con Facebook. Cioè, un giorno lo chiudiamo, un giorno no. Cioè, no, è una moneta, deve essere stabile e deve essere affidabile, anticensura, come è oggi. E certo, possiamo migliorarlo lentamente, come si fa sempre, con Bitcoin. Le altcoin, mi è piaciuto il suo punto di vista, quindi, di esperimenti che un giorno magari potrebbero far parte attraverso tecnologia site chain su Bitcoin. Ma soprattutto, mi è piaciuto appunto il fatto di riconoscere Bitcoin come prima moneta per una serie di caratteristiche. È stato molto oggettivo, soprattutto anche le caratteristiche di Navcoin, cioè, se Navcoin dovesse essere usata a livello di Bitcoin, avrebbe gli stessi problemi di Bitcoin. Ho apprezzato molto anche la sua opinione su Lightning Network, quindi, a differenza, una caratteristica che ho visto di molti sviluppatori o comunque persone che lavorano nel mondo altcoin è la promessa di scalare on-chain. Alex ha detto chiaramente essendo uno sviluppatore non in mala fede è riuscito a dire no, on-chain non si scala. Il trade-off tra centralizzazione e scalabilità c'è sempre e ci dovrà sempre essere. Quindi, se vogliamo scalare, lui è d'accordo con noi che l'off-chain sia l'unico metodo. Quindi, mi è piaciuto molto la sua oggettività e la sua posizione riguardo altcoin e Bitcoin. Siamo molto lineati su questo. Mi dispiace perché non riusciamo a fare un dibattito perché siamo un po' d'accordo su tutti e tre come tre punti di vista. Siamo molto d'accordo a merito. Ritornerei un attimo sul discorso della privacy. Nivecoin, appunto, mi ricordo che all'inizio loro avevano implementato un bel sistema di privacy però ricordo che c'erano dei server mi sembra più o meno centralizzati quelli nav tech che facevano una sorta di mixer fondamentalmente su quello che era l'input e l'output. Sono stati però disabilitati in seguito però adesso stanno lavorando a qualcosa di nuovo da un sacco di tempo tra l'altro. Alex appunto ha contribuito allo sviluppo del white paper e di un documento che è in fase di peer review per un nuovo protocollo appunto di privacy. Ci ha spiegato che al momento c'è una discussione in atto e è un bel dibattito anche questo cioè da un momento in cui le transazioni hanno l'amount quindi hanno la quantità di monete transate nascosta quindi non visibile a quel punto se ci dovesse essere un bug che permette la creazione di infiniti token infinite monete e noi perderemo il controllo della effettiva supply cioè non sapremo quante monete sono in circolo questo è quello che è successo per esempio con Bitcoin Private mi sembra che il team si era preminato due milioni di coin e non è stato scoperto subito. Io sono allergico a tutto quello che ha Bitcoin nel nome Bitcoin Cash quindi se c'è dopo c'è una parola dopo Bitcoin è scam. Esatto. Si dice. Quindi un bel dibattito anche questo abbiamo parlato molto di privacy quindi le differenze un po' tra monete che hanno una privacy nativa appunto come magari monero e servizi come coinjoin eccetera abbiamo parlato della fungibilità di Bitcoin quindi vi invito ad andare poi a leggere l'intervista intera che è davvero interessante assolutamente se avete messo anche la forma anche in forma di articolo sul sito esatto nel bitcultura.it lo mettiamo sicuramente nei riferimenti della video qua sotto molto bene per quanto riguarda un po' il discorso di decentralizzazione degli exchange che è un tema caldo io contavo su Omise Go che però comunque stanno cercando di hanno fatto di fatto sono diventati gli implementatori di plasma su Ethereum da quello che ho capito quindi stanno andando un pochino per le lunghe di fatto credo che sia urgente che ci siano delle alternative qual è la situazione avete parlato di Biscuit se non sbaglio che è un non lo so ho visto che è saltato fuori un po' dal nulla questo sistema questo DEX che sta prendendo un po' piede sì ho voluto fare questa domanda ad Alex perché trovo che parlando di privacy coin un altro argomento molto interessante sia appunto quello dei DEX a differenza appunto del progetto che hai nominato che si basa su Ethereum quindi non è sicuramente scalabile non è decentralizzato eccetera tutte caratteristiche che conosciamo Bisc appunto è l'unica alternativa al momento secondo me valida e Alex era d'accordo e se superiamo magari il problema della liquidità che ovviamente non è paragonabile a un exchange centralizzato è stata bella la sua opinione appunto sulla possibilità dei regolatori di bloccare una privacy coin Alex crede che al momento non ci sia l'interesse di bloccare una privacy coin perché questo sicuramente aumenterebbe l'interesse verso una privacy coin come diceva lui tutto quello che è illegale viene utilizzato di più spesso perché è illegale e soprattutto perché la possibilità di oggi se vogliamo comprare una privacy coin andiamo da Binance quindi un exchange centralizzato e questo per loro è un vantaggio per il regolatore perché può controllare meglio appunto chi per esempio utilizza le privacy coin facendo poi analisi dati eccetera quindi credo che la sua visione su BISC come Dex come blocco del regolatore credo sia stata molto interessante sicuramente con il know your customer di fatto infatti mi scappa sempre un sorriso quando parliamo di comprare monete privacy coin per cui spendere di qua e di là di fatto con il know your customer hanno entregato hanno entregato un pochino un pochino tutto se vogliamo suggerire gli utenti xmr.to che è appunto una piattaforma per comprare per esempio monero bitcoin poi invito gli utenti ad andare su xmr.to un sito davvero interessante mettiamo il link sotto sicuramente 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 fermiamo qui hai qualcosa da aggiungere chi vuole seguirti direttamente dove ti trova su bitcultura sei su twitter no twitter non lo uso molto ma in realtà io inviterei tutti ad andare su bitcultura sul gruppo telegram in cui trova tutti 130 persone che si scambiano opinioni e news un po' interessanti ottimo molto bene va bene ti ringrazio per il tuo tempo per lo spazio ci risentiamo presto allora sicuramente ciao a tutti bene da zaneditourblab.it è tutto come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione e fare mi piace qua sotto per me è sempre estremamente importante quindi grazie in anticipo davvero se lo farai se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblichiamo un nuovo video non dimenticare di iscriverti al canale cliccando sul pulsante rosso e sulla piccola campanella di fianco ti invito a farci sapere cosa ne pensi di questa chiacchierata che abbiamo fatto con Simone se sei d'accordo con i temi trattati se conoscevi già Navcoin se ti sembra che il mondo bitcoin e delle criptovalute stia andando nella direzione giusta e in generale tutto quello che ti passa per la testa nei commenti qua sotto alla prossima ciao